Chi è? Sono Lecchi! Sono... Calma, Pierriga. Non ti abbiamo mandato nessun maschio. E tutto il più si tratterà di un ragazzo. Dai! La signora ha dato la camera, o no? Perché non mi avete detto niente? Scendi subito! Non parli parli niente l'Italiano. Do you speak English? Sono Ekin. Sono di Istanbul, porto pace e amore dalla Turquia. Cazdu! Ashke! Ma nene su è qui, burda? Lui è il tuo unico figlio. E' il fumo di Francesco. Non mio. Sbettila Giovanni! Sbettetela! Giovanni! Voi stranieri siete tutti uguali. Ma che pensi di cambiare il monte in 448? Tutti possono cambiare, signor Enrico. Ah! Voi stranieri siete o che ho parlare. Ascolti e le metterà sono? Sbettere anche la tua mensa.